Io ho cominciato la mia vita con l'elettrosincrotruna di Frascati nel 1958, tanti anni fa, e quindi ho lavorato subito con facci di Bremstrallo, di fotore di Bremstrallo. Mi ci sono affezionato e quindi ho sempre lavorato in fotoreazioni, salvo qualche breve parentesi in qualche altro laboratorio, ho sempre lavorato in fotoreazioni. A un certo punto dalla Bremstrallo standard si è parlato di Bremstrallo incoerente, fatta da persone come Giordano Drembrini, che forse i vecchi di voi ricordano, e poi c'è il problema di trovare, poi si è provato a fare fasci di fotoni con l'annigliazione di positroni, e poi c'è stata questa idea di usare il fascio conto scattering. Se uno prende gli elettroni che circolano in un anello di accumulazione, c'è una corrente piuttosto elevata, che gli elettroni hanno tante volte in giro, quindi circa 100 mA e 1A. Non riesco a capire cosa funziona, e quindi uno potrebbe sparare un laser contro queste direzioni che circolano in una zona dritta dell'anello di accumulazione, c'è una scattering a 180 gradi, e se uno scrive la cinematica relativistica dell'effetto Compton in volo, viene fuori che il fotone di un qualche elettron volt diventa un fotone di molti MEV e in alcuni casi anche di alcuni JEV, che c'è una doppia trasformazione di Lorentz dal laboratorio al centro di massa e dal centro di massa al laboratorio quando il fotone parte all'indietro. La formula è questa, come vedete l'energia del gamma è l'energia del laser, la cosa è l'energia del gamma è uguale all'energia del laser, lo stiamo per gamma quadro, dove il gamma è il gamma dell'elettrone, spesso diverse migliaia, in alcuni casi anche decine di migliaia, quindi c'è una moltiplicazione dell'energia del laser da elettron volt a raggi gamma. Quindi questo è l'esperimento. In questo modo abbiamo realizzato il primo fascio LADON a frascati e poi dopo altri ci hanno, questa è la parte ottica del fascio laser, vedete, si vede chiaramente l'ottica qui che serve a focalizzare, allineare, rotare la polarizzazione e poi il fascio laser verde che spara verso gli elettroni. La cosa importante è che nello scattering Compton ad alta energia, l'elicità è un buon numero quantico, quindi l'elettrone non trasferisce spin al fotone e quindi il fotone se è polarizzato come fotone visibile, resta polarizzato con la stessa polarizzazione più o meno come il raggio gamma. Quindi abbiamo realizzato un fascio monocromatico e polarizzato che è da IMEV ai GEV. La freccia, quella che non funziona. Ah, ecco qui, devo puntarlo di qua. Va bene, il fascio era polarizzato, lo sappiamo teoricamente, però il problema è a misurare la polarizzazione. Con un piccolo sfera di cristallo di ioduro di sodio comprata dall'Università di Roma abbiamo usato come analizzatore di polarizzazione il meraviglioso livello di 15,1 mebbe del carbonio 12 che è un perfetto analizzatore di polarizzazione. Quindi come vedete qui c'è una curva dello schetteri in funzione di Φ, cioè in funzione dell'angolo agimutale. Vedete che è una perfetta curva 1 più coseno di 2 Φ che è di un fascio perfettamente polarizzato su un analizzatore perfetto di polarizzazione. Bene, questo primo successo ne ha simulati diversi altri, no, sono apposta, e adesso sono realizzati al mondo diversi fasci di questo tipo. Il primo è stato il nostro, diciamo quello all'inizio, all'angoletto estremo, poi è venuto il fascio, poi quando hanno chiuso Adone sono andati a lavorare a Brukede con una macchina di maggior energia che invece di consentirci 80 Meb ce ne ha consentiti fino a 400, poi c'è stato il fascio Graal che abbiamo realizzato a Grenoble e poi i giapponesi che hanno una macchina più grossa di un anello di 8 Jeb hanno realizzato l'ultimo fascio, il Lep Spring, che è arrivato fino a 2,4 Jeb. Come vedete sul rimpresso a questa curva c'è diciamo la sezione d'urto a droni, a gamma a droni, nelle varie componenti e sotto ci sono indicate le varie soglie. la produzione di varie particelle. Sulla destra c'è la polarizzazione, che quella lineare è quasi uguale a 1 alla massima energia, quella circolare ancora più uguale a 1 però poi cambia segno e va del segno negativo. Quindi la polarizzazione per fotoni che vanno nella direzione degli elettroni è praticamente completa. Nel fascio di Brookhaven abbiamo anche realizzato un bersaglio polarizzato, i bersagli polarizzati di uso comune sono una specie di metanolo, cioè C4H9OH, in cui ci sono tanti nuclei di isrogeno polarizzati, ma anche nuclei di carbonio e di ossigeno. Quindi il rapporto segnale fondo, come vedete, cioè sul protone polarizzato e sulle altre particelle, è piuttosto sfavorevole. Noi invece, un suggerimento di un professore di Syracuse, abbiamo realizzato un bersaglio HD. Cosa vuol dire un bersaglio HD? Vuol dire un bersaglio di idrogeno, in cui ogni molecola, una per una, ha un protone e un deutone dentro. Quindi essendo dei particelli, un fermione e un bosone, non c'è il vincolo della statistica. E uno può polarizzare autonomamente sia il protone che il diutone e i pali di spin. Se il solito, ognuno se ne frega di quello che fa il suo fratellino della stessa molecola. Quindi realizzando questa cosa, abbiamo realizzato un bersaglio HD e con quale abbiamo fatto delle misure di doppia polarizzazione, gamma polarizzati su protone polarizzati. Questo ci ha permesso di misurare la produzione di pi zero e di pi più sul protone e sul neutrone poi anche. e come vedete abbiamo prodotto un notevole numero di dati di doppia polarizzazione che hanno costretto più o meno i poveri teorici a rivedere molti modelli che soddisfacevano le sezioni d'urto ma non soddisfacevano i dati di doppia polarizzazione. Tuttavia la cosa principale è stata quella della verifica della regola di somma di Drell-Hair-Gerasimo o Gerasimo o Drell-Hair secondo la moda. Questa regola di somma è la differenza tra la sezione d'urto totale con spin paralleli, fotone e bersaglio e spin antiparalleli, fotoni e bersaglio. Come vedete è una regola di dispersione che dà un numero esatto, la somma di questo qui dalla soglia a infinito è 204 microbar per size. Questi sono tutti numeretti, quelli che stanno prima del 204. Quindi ci sono due problemi, uno se l'integrale effettivamente converge, come sapete che uno su x non converge all'infinito, quindi è essenziale perché l'integrale converga che sigma p diventa sigma parallelo diventa uguale al sigma antiparallelo. Quindi c'è prima da verificare che l'integrale converge, allora si può parlare di questa regola che altrimenti casca. E poi c'è altro problema di misurare la convergenza. Noi abbiamo fatto misure sia della produzione di pi zero che della produzione di pi più, che nella nostra zona di energia sono diventati processi dominanti, anzi quasi gli unici processi, e come vedete c'è una certa convergenza dell'integrale che tende a un certo valore costante, che questo è solo il pi zero, se non si aggiunge il pi più più o meno tende esattamente a valore previsto dalla teoria. L'ultimo fascio realizzato è il fascio Graal, quello realizzato a Brukever, a Grenoble. Lì c'è una macchina, un anello di acquistore di 6 GEV, in cui graziosamente lo sono fatti entrare, perché era una macchina per le luci di sincrotone, erano un po' gelosi, che si rompono i scatole dei particiari, che vengono a romperci le scatole anche qui. Insomma, con un po' di politica siamo riusciti a entrare. Abbiamo sparato un fascio laser contro l'anello di accumulazione dell'European Synchron Radiation Facility, in una zona dritta lunga 6 metri, tra due dipoli, e come vedete qui c'è il banco ottico, qui c'è la zona del banco ottico, questi qui spariamo verso la zona dritta del zone, gli elettroni che hanno urtato un fotone, un fotone laser, perdono l'energia e vengono rivelati in un tagging detector, che sta qui, fatto con una microstrip di 128 canali e un po' di contatori a scintillazione. I gamma vanno dritti, dritti rispetto agli elettroni, a 180 gradi rispetto al laser, e vanno nella sala sperimentale, dove c'è una sfera di cristallo più grande e poi un po' di contatori, che vi raccontano, sono le solite storie, diciamo così. Bene, questa è la delicata sistema della microstrip, la quale, come potete vedere, lavora a 10 mm dal fascio. Questo è il fascio di elettroni, 200 mA di elettroni che circolano, e a 10 mm ci sta una scatola di acciaio con dentro uno schermo di un seno, in cui c'è il nostro apparato sperimentale. Qual è la rottura di scatole? Che siccome, che quando il fascio gira, questo può stare lì tranquillamente, ma quando iniettano un nuovo fascio, qui c'è un mare di elettroni che rovinerebbero tutto il nostro apparato, qui dobbiamo ritirare indietro questo affare, usato questi tomba che ci sono qui, diciamo, dobbiamo tirare indietro questo affare, allontanare e poi ritornare in posizione. Quindi, su un certo punto, i problemi meccanici, non semplici, soluzione, per fare questa avanti e indietro con assoluta precisione, e vedremo poi qual è la precisione che ci serve. Beh, questo è il tagging box con i 10 contatori a scintillazione e una microstrip a 128 canali. Il risultato è questo qui. Allora, quello in giallo è il conteggio di ogni canale di microstrip. Come vedete, c'è un'energia massima dei gamma che corrisponde all'energia minima degli elettroni, cioè gli elettroni che ho perso più energia, danno un gamma di alta energia, e questo affare, questa rapida caduta, che voi vedete, l'abbiamo chiamato il Compton Edge, l'angolo Compton. Da una parte, in direzione di destra, cresce l'energia del gamma, che c'è un massimo a circa 1500 MeV, e indietro, in sinistra, cresce l'energia degli elettroni scatterati. Se uno fa la differenziazione e ottiene la curvetta in rosso, vedete che il fascio ha un potere risolutivo di 16 MeV, full width ad maximum, e se uno vede la precisione in tempo, per fare la coincidenza con gli eventi sperimentali, vede le curve a destra, in blu, e vede che circa tra il picco principale e i picchi secondari, corrispondono ai pacchetti di elettroni che circolano in adone, c'è circa un fattore 100, diciamo, in un certo senso. Vabbè, con questo fascio abbiamo fatto un numero enorme di curve di polarizzazione, tutti quanti hanno un po' poco diliziati teorici, sono stati costretti a rivedere le loro teorie, perché quelli che andavano bene per la sezione d'urto non andavano bene, ovviamente, anche per le curve di asimmetria, e abbiamo collegato molte curve di asimmetria per buona parte delle reazioni che potete pensare tra la soglia di pioni e circa 1500 m, sul protone e sul neutrone. Protone libero, dirogeno, protone legato a deuterio, neutrone legato a deuterio. Va bene, adesso una cosa più divertente, una cosa divertente, voi pensate di stare fermi seduti qui, ma in effetti stiamo correndo come in Marti, stiamo correndo perché la Terra gira intorno a se stessa, stiamo correndo perché la Terra gira intorno al Sole, stiamo correndo che il nostro Sole corre nella nostra galassia e stiamo correndo perché la nostra galassia corre in base a quello che si considera un sistema di riferimento forse assoluto. Quindi noi stiamo correndo come in Marti e questi vettori di velocità a cui ci troviamo coinvolti, diciamo, senza volerlo, si combinano in modo diverso a seconda del giorno, dell'anno, della stagione, eccetera, eccetera. Quindi c'è nata a un certo punto una curiosità di vedere, ma non potrebbe essere che, diciamo, possiamo in qualche modo rivelare se effettivamente cambia la velocità della luce o la cinematica realistica più in generale in funzione di questi vari movimenti. E quindi siamo posti il problema di fare questo. La cosa divertente è che quando sono andato al direttore dell'SRF a proporgli questa verifica mi ha detto tu cosa ti aspetti? Io sono zero, io sono un credente, che un credente oggi si aspetta zero in questo caso. Però, insomma, se uno può verificare la cosa, come ad esempio un fattore 5-10 meglio dell'ultima verifica, una cosa fondamentale come una realità speciale, non generale, vale la pena di verificarla. E quindi abbiamo deciso di fare questa verifica. Allora, questo è lo schema della planimetria del fascio ad ore, del fascio graal, che punta verso, questo è il nord, qui c'è il nord, oh mio Dio, no, sarei dovuto venire a fare un po' di esercizi prima di arrivare. No, sbagliato tutto. Sì, ma in realtà non si capisce fare il verso giusto. Ecco, quindi diciamo, il fascio punta, nel riferimento della Terra, punta praticamente al sud-ovest, mentre il nord è stato da un'altra parte. Quindi questo qui si muove, se non altro, se si muove la Terra, gira la Terra, e perché, diciamo, penso di farcela, grazie, e perché, diciamo, si muove la Terra intorno al Sole, diciamo. Allora, due, abbiamo lavorato per quattro anni e in quattro anni voi pensate che in circa ogni dieci minuti accumulavamo uno spettro di elettroni. Quindi abbiamo un dato di Compton-Eggio circa ogni dieci minuti. Mentre non abbiamo lavorato sempre per quattro anni, perché lavoriamo ogni tanto, ovviamente, per umano sofferenza, tolleranza, però vedete che abbiamo lavorato in giorni diversi, giorni, notti, stagioni, estati, inverno, tutte le stagioni, eccetera, eccetera. Vabbè, quindi, diciamo, qui c'è un po' di cinematica, ma quello che, non per dire troppo tempo, ma quello che è importante, che siccome l'energia del gamma va come gamma al quadrato, il gamma dell'elettrone per l'energia del laser, nei tutti i giochi che uno fa per capire se c'è qualche variazione nella cinematica relativistica, una variazione dell'energia del gamma ha un effetto che va come gamma al quadrato e siccome gamma sull'anello di Grenoble era 11.800, noi abbiamo moltiplicato l'effetto di quello che misuriamo per 1.4 in 10 alla 8, cioè quello che noi misuriamo è moltiplicato come risultato per 140 milioni di volte e questa è stata l'idea appunto che ci ha permesso di andare avanti e far approvare l'esperienza. Questo è quell'esame di Compton Edge, se uno ha una riga laser, il Compton Edge come vedete è una riga chiara e come vedete tra qui e qui ci sono 300 micron e vedete siccome questa statistica è enorme migliaia di eventi non c'è un limite statistico alla precisione della posizione di questa riga. Se uno ha tre righe laser come abbiamo avuto in altre esperienze tre righe all'ultravioletto abbiamo una riga qui una riga qui e una riga qui questo è l'ospetto di raggi e gamma e anche in questo caso si può con semplici modellini individuare il Compton Edge con estrema precisione quindi non siamo limitati dalla statistica a un errore rilevante i veri errori sono quelli sistematici ovviamente. Allora qual è il problema? Il problema è che la macchina di Grenoble iniettava ogni 12 ore che guardate la Iella esattamente più o meno un periodo metà del giorno solare quindi c'era il problema poi possiamo vedere una variazione solare se abbiamo già una variazione lì e quando la macchina inietta la corrente del faccio cresce va da circa 150 a 200 milliampere quindi cresce la luce di sincrotrone emessa e tutta la situazione termica dell'ambiente cambia l'ambiente cambia il struttore quindi abbiamo messo come avete visto un termometro dentro il nostro scatola e abbiamo misurato diciamo la temperatura della scatola e questo è un termometro un lungare termometro in stato solido che misura circa variazione di un grado quando ogni volta c'è l'iniezione della macchina su questa curva abbiamo fatto una curva empirica molto facile da valutare c'è un esponenziale che cresce e un esponenziale che cala diciamo in un certo senso e abbiamo ricavato la curva in blu quindi noi che abbiamo potuto prendere diciamo le curve di tutti i nostri dati fittarli per fittare perché le costanti di tempo ce le dà la curva della temperatura qui ci manca solo l'ampiezza abbiamo fittato l'ampiezza abbiamo ottenuto abbiamo corretto i dati per questo brutto effetto come vedete il massimo cosa che si vede sono reali a 6 micron un errore di 6 micron tutto quanto che corrisponde a 0,17 MeV si si chiudo va beh quindi abbiamo un errore di 3 in 10 alla 5 sul ddx a questo punto abbiamo preso tutti i dati raccolto in 4 anni li abbiamo riportati sul tempo di un giorno e quindi sono stati a 10 alla meno 5 a 10 alla meno 6 10 alla meno 6 per 10 alla meno 8 per 10 alla meno 14 quindi abbiamo fatto una verifica dell'isotropia dell'isotropia della velocità della luce in base al movimento della terra intorno a se stessa intorno al sole tutte le altre cose dovete pensare di circa 10 alla meno 14 che è circa 10 volte quello che allora era il risultato che si prevedeva grazie scusate un po' di confusione ma sono in un momento difficile io scusate dovevo andare grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti